buongiorno buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento del webinar mibes evento che come ormai sapete è organizzato da accademia mibes che in italia è la prima piattaforma di learning con possibilità di rilasciare 10 cm esclusivamente dedicata alla formazione sanitaria e alla promozione della salute prima di presentare l'ospite di oggi ci ci fa molto piacere dirvi che il quantum globo al 2023 l'evento internazionale di cui vi avevo parlato la scorsa volta e che ci ha visto come partner organizzativi è andato molto molto bene siamo veramente soddisfatti abbiamo avuto il piacere di trasmettere la diretta da milano con la traduzione in simultanea sia in italiano che in inglese e tra poco l'evento sarà acquistabile proprio su accademia mibes e saranno disponibili ben 50 crediti e cm quindi per chi è interessato effettivamente praticamente si sistema tutto l'anno 2023 insomma un altro bel successo che ha fatto seguito a quello che abbiamo organizzato ad inizio anno in questo caso però nel settore psicoterapico sull'importanza dell'integrazione in psicoterapia a cui come avevamo detto hanno partecipato addirittura più di mille professionisti abbiamo però in serbo tante altre novità e come promesso ve le comunicheremo un po' alla volta proprio durante i nostri webinar tornando invece al nostro ospite di oggi prima di presentarvelo come sempre vi ricordo che potete seguirci in diretta eh sul sul nostro sito di accademia mibes ma anche sulla pagina facebook di accademia mibes su quella di linkedin e sul nostro canale youtube chiaramente questo webinar come tutti gli altri sarà poi eh lasciato a disposizione per essere visto anche successivamente quindi avete la possibilità di guardarlo adesso in diretta di guardarlo in un secondo momento di condividerlo senza problemi potete poi mettere un like sulla pagina facebook e linkedin oppure iscrivervi al nostro canale youtube e in questo modo avrete la possibilità di rimanere sempre aggiornati su quelle che sono tutte le nostre attività bene detto questo eccoci all'ospite di oggi con cui introduciamo un nuovo settore sanitario che è quello odontoiatrico quindi stasera abbiamo come ospite il dottor roberto roba odontoiatra ed esperto in protesi dentaria che esercita la libera professione a cagliari negli anni si è perfezionato con dei master universitari uno all'università dell'aquila in psico neuroendocrine immunologia un altro all'università di roma quella di tor vergata in dentosofia è da anni relatore numerosi convegni nazionali e internazionali su argomenti riguardante la visione pnei delle carie e della malattia paradontale proprio su questo specifico tema insegna presso la scuola di medicina dell'estero di torino attualmente è ricercatore indipendente nel campo degli studi che collegano proprio lo stress alla formazione della carie e proprio un articolo che lui ha pubblicato su una rivista indicizzata che pnei review ha attirato quella che è la nostra attenzione poiché ha proprio ribaltato la tradizionale teoria sulla formazione della carie dandone una visione sistemica estremamente completa e molto molto interessante quindi con roberto roba parleremo proprio di stress carie malattia paradontale un legame più forte di quanto immaginiamo mi raccomando come sempre sia durante l'intervento del dottor roberto roba che alla fine potete scriverci quelle che sono le vostre domande in modo da leggere poi successivamente e avere da lui delle risposte chi ci sta seguendo sul sito internet di accademia mi best come sempre può esporci la sua domanda scrivendo nella chat che trovate in basso a destra chi invece ci segue su facebook su linkedin o su youtube può scriverci sempre nelle apposite chat dei tre social dunque detto questo roberto benvenuto benvenuto siamo contenti di unicola che un piacere anche per me come ospite questa sera bene come stai tutto bene tutto bene sì 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 in sardegna si sta bene sì c'è sardegna si sta bene dai questi giorni un po di pioggia però durante oggi ad esempio c'è un bel sole e ancora non è tramontato quindi da ce lo godiamo un po e ci credo ci credo senti nel tuo articolo appunto che ho citato prima quello pubblicato sulla rivista di penerevio presenti proprio una nuova teoria sull'origine della carie dentale la cosa ci ha molto colpito proprio perché quella che è introdotta una visione sistemica molto più ampia rispetto alla classica teoria ufficiale eh riduzionista più o meno no che risale al mille ottocento in questa nuova teoria tu poni lo stress eh al centro poiché proprio lo stress ha un ruolo determinante nell'eziologia quindi nella comparsa nella causa ecco di quella che è lo sviluppo di una patologia come come appunto quella della carie puoi spiegarci come nasce questa teoria e a quali conclusioni eziologiche e terapeutiche conduce sì allora questa teoria ha un'origine un po' particolare perché io da libro professionista ho passato la prima parte della mia vita professionale a fare l'odontoiatra classico e poi ho incontrato questo personaggio che è lo stress cioè la gestione del mio studio mi ha portato ad avere situazioni che sono conosciute oggi come ansia da prestazione non ho avuto attacchi di panico ma mi sono avvicinato a questo tipo di sintomatologia tutto perché perché avevo dedicato completamente me stesso alla gestione della di questa attività che andava benissimo ma le mie risorse sono state in qualche modo messe alla prova quindi sono stato costretto a occuparmi di questa materia che all'università era stata accennata cioè all'università io ho fatto l'università negli anni 80 si parlava di stress ma era una parola tapabuchi e cioè quando c'era una patologia di cui non si riusciva bene a capire nell'origine come infarto un ictus un'ulcera gastrica si diceva sotto la persona era sotto stress ma di più non si diceva e quindi io con degli studi personali sono andato a conoscere invece gli studi ad esempio di ansia lì e il suo libro stress of life o quelli di cannes esperti molecole di emozioni ma soprattutto chi mi ha cambiato la vita è stato il medico francese henry labori non so se conoscete ma è un è un ricercatore che ha preso gli studi di ansia lì e ci ha aggiunto qualcosa cioè lui ha visto faceva degli esperimenti sui topolini e cosa faceva sottoponeva come faceva se li ha degli stress degli shock in questo caso elettrici dei topolini in una gabbia e quindi se lui lasciava la possibilità ai topolini di fuggire in un'altra gabbia dove non c'era la scossa elettrica i topolini non si ammalavano se invece impediva questo il topolino dopo un po si ammalava di quelle patologie che se li aveva descritto nel suo libro riguardante proprio i suoi esperimenti sullo stress la cosa interessante quindi la fuga già noi sappiamo che lo stress si occupa di fight and flight la fuga era considerata uno strumento ottimo per evitare di somatizzare lo stress ma la cosa interessante che ha scoperto dopo è stata che se in una gabbia in cui i topolini non potevano scappare metteva due topolini e dava la scossa elettrica i topolini iniziavano a combattere tra di loro e questo combattimento faceva sì che i topolini alla fine non avessero nessuna malattia quindi non solo la fuga ma anche lo scaricare in un'azione fisica di combattimento era utile per limitare i danni dello stress io mi sono chiesto ma nella nostra vita di tutti i giorni negli ambiti in cui siamo sotto stress sia l'attacco che la fuga sono bloccati perché nel lavoro nelle relazioni sentimentali nelle relazioni familiari non possiamo certo picchiare nessuno né scappare da questi contesti e quindi da lì l'idea di andare a cercare soluzioni alternative che da lì la ricerca di tecniche di coping di rilassamento tutto ciò che oggi si conosce sulla gestione dello stress che però allora per me era un argomento sconosciuto da lì poi è stato facile dire ma nel mio campo odontoiatrico i miei pazienti che vengono con delle problematiche particolari perché ci sono persone devi sapere che per vent'anni possono non avere nessun problema e poi in periodi di stress iniziano ad avere carie o malattia prodontale e questo indipendentemente dalle loro capacità di spazzolare i denti o dalle loro alimentazioni possono essere più o meno zuccherine e che cosa si dice tra l'altro alle persone che sono sotto stress e devono resistere per un periodo prolungato stringi i denti quindi anche tra le conoscenze popolari i denti e in questo caso i digriniatori a livello scientifico si è studiato ad esempio che si è visto che una notte passata a stringere i denti a digriniare abbatte notevolmente i livelli del cortisolo che il parametro attualmente più considerato per valutare lo stato di stress quindi i denti comunque hanno a che fare con lo scarico dello stress e quindi è per questo che ho incominciato a vedere quello che non avevo mai visto nei miei pazienti e fare dei collegamenti che sino ad allora non avevo mai fatto questo è quanto io adesso se vuoi ti faccio vedere un po a livello di carie che cosa ho scoperto facendo queste ricerche si so che hai preparato appunto delle slide per noi e insomma grazie si si condividi cele pure che ci fa estremamente piacere dobbiamo sapere che l'odontoiatria è sempre stata una branca marginale è sempre stata considerata una branca marginale nonostante un organo indispensabile per la sopravvivenza perché dalla bocca si sa che passano i cibi ma è utile anche per la respirazione pensate se noi fossimo raffreddati e respirassimo solo col naso saremmo morti in un istante la bocca in questo caso aiuta a creare la seconda il secondo passaggio per l'aria in situazioni di ostruzioni nasali la bocca è determinante nelle relazioni sociali le espressioni emozionali però e la medicina occidentale riceve poca attenzione addirittura la figura dell'odontoiatria è stata creata e quella di una di un professionista non medico come se fosse possibile staccare la bocca dal resto del corpo e occuparsi solo di una parte senza occuparsi del resto quindi siamo lontani dal concetto di medicina integrata le cure in particolare cosa fanno eliminano i sintomi che sono il dolore la perdita di denti e la perdita di capacità masticatori il dentista tipo sarebbe contento di fare un lavoro come quello di un meccanico in cui gli si lascia il pezzo la bocca e lo si viene a ritirare il giorno dopo molti miei colleghi oggi amano lavorare col paziente sedato paziente tra l'altro coperto in cui che forse non riconoscono nemmeno loro si trovano una bocca già preparata dai collaboratori e fanno i loro interventi niente da dire però è giusto per far capire la tendenza che oggi sta si sta portando avanti in questo campo quindi quando nel mio studio io vedo una bocca entrare da sola senza il proprietario forse anche io avrò questo approccio però comprendere le patologie della bocca potrebbe essere un ottimo spunto per comprendere poi le patologie del resto del corpo quali sono i due principali problemi che un dentista si trova ad affrontare con i suoi pazienti la carie dentaria conosciutissima che distrugge i tessuti duri del dente lo smalto e la dentina e la malattia parodontale che invece distrugge lascia intatto il dente ma distrugge ciò che lo tiene in piedi l'osso alveolare il legamento parodontale creando la cosiddetta perdita di attacco questa è una bocca che ha dei problemi parodontali e questo è il risultato dopo le terapie in cui si mostra quanto osso sostegno nel tessuto di sostegno era stato perso ufficialmente c'è un unico responsabile i batteri del cavo orale di ceppi diversi per la carie sono questi e questi sono quelli della malattia parodontale vediamo è veramente così e da dove origina questo tipo di approccio il considerare la malattia come il frutto esclusivamente di un aggressore esterno non è recente risale al periodo tra la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento un periodo in cui c'erano delle guerre che animavano il territorio dell'europa dell'occidente e quindi il fatto di dover combattere contro un invasore esterno era una cosa all'ordine del giorno in quel periodo pasteur scoprì che i microbi erano responsabili delle malattie perché lì si trovava sempre nei cissuti infetti e se si eliminava la malattia non si manifestava in quel periodo fu determinante l'unione tra università e la nascente industria chimica tedesca che inizialmente si occupava di coloranti e poi venne convertita alla ricerca di farmaci in quel periodo il tedesco lo scienziato tedesco paul eric addirittura definisce i farmaci per combattere l'invasore esterno come pallotto le magiche giusto per rimanere in in ambiente bellico non tutti la pensavano così il famoso claude bernard professore alla sorbona sosteneva che invece la cosa più importante era il terreno perché i microrganismi erano sempre presenti in bocca in particolare li troviamo praticamente tutti ma è il terreno che decide se un ceppo di microrganismi deve virulentarsi o no la stessa cosa pensava antoin bechamp che riteneva che la malattia iniziasse dall'interno e le variazioni di terreno influenzassero il comportamento dei microbi hanseli nel suo libro the stress of life cita la frase che disse pasteur in punto di morte bernard aveva ragione i germi non sono importanti ma la cosa più importante è il terreno quindi nonostante questo per interessi economici vinse la linea che affermava che il problema veniva da fuori e quindi i batteri dovevano essere la malattia dove essere sradicata anche con la forza la singola parte malata amputata operata trattata con farmaci e radiazioni e venne completamente messa da parte la medicina della persona che diceva che invece il problema veniva da dentro e in questo periodo che nasce la teoria della carie che noi conosciamo nel 1882 una teoria chiamata chemioparassitaria o acidogenica che diceva che la carie era causata dagli acidi prodotti dai microrganismi ed era un processo chemioparassitario che consisteva in due passaggi decalcificazione e dissoluzione gli acidi erano prodotti dai batteri dalla fermentazione degli zuccheri e degli amidi i stessi ragionamenti vennero fatti per la piorrea che sarebbe praticamente la forma aggressiva che esisteva un tempo della malattia parodontale che in breve tempo allora faceva cadere tutti i denti o quasi della bocca e si diceva che in condizioni di scarsa igiene orale i batteri proliferavano creando un'infiammazione che distruggeva questo tessuto di sostegno dei denti tutti noi dentisti però abbiamo dei dati un po diversi perché abbiamo dei pazienti che spazzolano bene i denti e nonostante tutto hanno problemi di carie e malattia parodontale poi non ci spieghiamo perché se queste due malattie sono causate da batteri non siano infettive cioè gli stessi batteri se noi li portiamo il corpo di un'altra persona non causano malattia tutti indizi che ci portano a dubitare che i batteri siano la prima causa e che invece a fare la differenza sia il terreno anseli ci parlava proprio di queste cose e descrivendo la nel suo libro the stress of life le ricerche sullo stress ci diceva ci ricordava che lo stress è una risposta che esiste perché utile la sopravvivenza è anche uno stress psichico in grado di provocarlo quale sarebbe quindi la teoria e oggi viene considerata valida e che viene dal 1882 quella che i batteri tramite la placca batterica e gli zuccheri producono degli acidi e questi vanno a il dente noi interveniamo con l'igiene orale con l'alimentazione questo punto questo processo si interrompe e il dente rimane sano però andando a fare le mie ricerche ho scoperto qualcos'altro che mina questo tipo di teoria che possiamo considerare una teoria riduzionista per far questo dobbiamo riflettere un attimino su come è fatto il dente il dente ha al suo nello strato esterno uno lo smalto e all'interno la dentina la dentina ha dei cristalli disposti a formare dei tubi all'interno dei quali scorre un liquido che si chiama fluido dentinale che è una pressione è diretto verso l'esterno quindi da lì dalla polpa del dente verso l'esterno ed ha una pressione di 10 14 mm di mercurio cosa vuol dire se la confrontiamo con la pressione arteriosa che 70 110 abbiamo un'idea di cosa potrebbe essere flusso come abbiamo detto è rivolto dall'interno verso l'esterno ora degli studiosi della loma linda university già negli anni 70 fecero degli esperimenti interessanti diedero ai ratti una dieta a base di zuccheri e videro che se si riusciva ad abbassare il flusso di questo fluido dentinale aumentava la formazione di carie invece si aumentava il flusso e tutto questo lo si faceva in maniera sistemica la carie diminuiva scoprire una cosa interessante che già era una bomba atomica lo zucchero nella dieta non aveva un'azione locale come tutti pensiamo ma un'azione sistemica che anticipo agisce sull'ipotalamo ma allora non lo sapevano ancora si rendevano conto che però non era un'azione locale inoltre la dieta con molti zuccheri era in grado di bloccare o addirittura invertire il senso del flusso del fluido dentinale agendo a livello centrale tutti noi sappiamo l'importanza degli assi neuroendocrini l'asse ipotalamo ipofisi surrene giusto per parlare di stress è importantissimo in questo campo perché ci permette di far fronte alle minacce ambientali l'asse ipotalamo ipofisi gonadi regola tutta la faccenda della sopra della riproduzione l'asse ipotalamo ipofisi tiroide regola tutte le questioni del metabolismo per cui se esiste un asse neuroendocrino è perché la natura la biologia l'ha selezionato nel tempo e ha deciso di portarlo avanti come elemento importante per la sopravvivenza quindi immaginate la meraviglia nello scoprire che esiste un asse neuroendocrino che gestisce il flusso del fluido dentinale e quindi la carie ipotalamic parotid gland endocrine axis nel 68 addirittura si ipotizza l'esistenza di quest'asse nell'ottanta si isola l'ormone parotideo anche qua grande scoperta noi abbiamo sempre saputo anche noi odontoiatri che la parotide è solo una ghiandola a salivare in realtà è una ghiandola anche endocrina che produce un ormone parotideo che va a regolare il fluido dentinale è stato isolato nell'86 il fattore di rilascio dell'ipotalamo che regola la produzione di ormone parotideo da parte della parotide nel 93 si conferma l'esistenza dell'asse nel 2005 addirittura si riesce a sintetizzare l'ormone parotideo e vedere che effettivamente regola il flusso del fluido dentinale ci sono tutti i lavori che hanno portato a questi a queste conclusioni quindi il nostro schemino comincia a cambiare perché a questo punto noi abbiamo l'ipotalamo col suo fattore di rilascio che va agire sulla parotide che produce l'ormone parotideo che agisce sul flusso del fluido dentinale e se tutto va bene il dente è sano ma se noi abbiamo un eccesso di glucosio nel sangue il fattore di rilascio viene bloccato non si produce l'ormone parotideo e il dente si caria però stavo cercando i collegamenti tra stress e carie era questo che mi interessava quindi vengo a sapere che già nel primo libro di odontoiatria che del 1746 si diceva allora si usavano termini diversi che le passioni possono essere riconosciute come causa interna che produce la malattia dentale questo ricercatore della loma linda alla fine degli anni 50 sempre utilizzando i poveri ratti sottoposti a stress cosa faceva li metteva in delle gabbie talmente strette che i ratti non potevano girarsi o immaginate un ratto che un animale mobilissimo quanto può soffrire tenuto in una gabbia in cui tutti i movimenti sono bloccati ecco solo questo faceva sì che al tratto si formassero delle carie uno stress da confinamento in gabbia ristretto questo ricercatore della università california negli anni 50 diceva che gli stress emozionali potevano cambiare la le componenti vascolari della polpa e questo indeboliva le difese e si favoriva l'invasione batterica nel 54 uno dei fondatori della psicosomatica constatava che le praticamente si potevano curare le carie rampanti che sarebbero le carie che vanno avanti molto velocemente con la psicoterapia una cosa che oggi tutt'oggi sembrerebbe assurda questo è un collega odontoiatra australiano che nel 1960 fa una cosa molto intelligente che quello che dovremmo fare tutti noi cioè sottopone somministra un questionario ai pazienti prima delle cure in cui faceva delle domande sullo stress e si rende conto che il 96 per cento di quelli che aveva carie acute aveva passato un periodo recente di severo stress mentale e questo gli viene confermato da studi su tantissime persone di razze e professioni diverse addirittura riuscì a stabilire qual era il tempo intercorrente tra lo stimolo stressogeno e la manifestazione della carie praticamente in meno di un mese si formava la carie tutt'oggi i suoi studi non vengono presi in considerazione queste altre due studiosi borisenco che fanno un altro lavoro sui poveri topi con shock elettrico e vedono che sottoponendoli a shock elettrico quelli sottoposti allo shock formano delle carie rispetto al gruppo di controllo ma loro fanno una cosa ancora più interessante prendono i topi sottoposti a shock elettrico li dividono in altri due gruppi un gruppo lo mettono a riposare in un ambiente tranquillo dove potevano recuperare mentre l'altro gruppo viene messo in gabbie rumorose dove c'erano dei ricercatori nella stanza c'erano luci porte che sbattevano altri ratti che erano stati sottoposti ad altri esperimenti e si si vide che formavano più carie i ratti che avevano un ambiente stressante anche quando si dovevano riposare e questo ci fa un po riflettere perché tutti noi nel corso della nostra vita abbiamo degli stress esterni ambientali ma quando torniamo a casa nella nostra cuccia nel nostro ambiente intimo quello che troviamo fa la differenza perché se riusciamo a rilassarci troviamo un ambiente confortevole possiamo recuperare ma se la anche l'ambiente familiare e stressante i sintomi appaiono molto più che nella situazione opposta altro studio sui ratti questa volta si fa una cosa particolare si tolgono gli zuccheri solamente lo stress indotto dallo shock elettrico fa formare le carie studi su bambini giapponesi in cui si vede che i bambini con un alto livello di ansia formavano più carie le personalità più soggette erano esplosiva e sfuggente lavoro interessanti su rifugiati politici in cui si vede che ci sono forti collegamenti tra carie stress percepito ed eventi stressanti tutte le categorie insomma che sono analizzate per lo stress vengono in questo caso analizzate anche per quanto riguarda il collegamento tra stress e carie i caregivers sappiamo tutti chi sono oggi sempre più attuali perché l'aumento dell'età media della popolazione fa sì che tanti figli si debbano occupare di genitori anziani e questa situazione è potenzialmente stressante tant'è che i caregiver sono studiati proprio perché tendono ad ammalarsi a volte di più della persona che stanno assistendo perché immaginate lo stress del caregiver che da un lato segue una persona alla quale affezionato e magari con la quale ha dei legami affettivi anche di riconoscenza come può essere un genitore dall'altro però queste persone spesso in tale età cambiano il loro umore il loro carattere comunque richiedono un'attenzione che porta via tempo importante quindi vita quindi ci si trova davanti a questo bivio seguo assisto questa persona ma praticamente rinuncio a a vivere e quindi in questo caso sono stati studiati i bambini non potendo studiare lo stress direttamente dei bambini sono stati studiati i bambini seguiti da caregiver stressati e si è visto che le carie aumentavano notevolmente quando i caregivers erano sotto stress due studi uno anche su bambini indiani poi ci sono gli eventi avversi dell'infanzia qua li abbiamo elencati uno solo di questi aumenta l'incidenza di carie tre di questi raddoppiano la possibilità di avere lesioni cariose altra categoria molto studiata per quando arrivare allo stress il basso livello socio economico e qui addirittura si vede una cosa interessante che le persone avevano un aumento di carie sì ma c'era anche un alto livello di cortisolo basale e guarda un po questa situazione particolare fa aumentare una specifica anzi due specifiche colonie di batteri del microbiota che sono quelle responsabili considerate responsabili nel processo della carie sono state esaminate le personalità predisponenti e si è visto che quelli più predisposti a carie sono quelli emozionalmente negativi quelli che vedono tendono a vedere il bicchiere mezzo vuoto facilmente stressati e tormentati i pessimisti i studenti universitari altra categoria molto studiata e si è visto che quelli che hanno un valore dello stress da medio alto hanno un rischio di carie 4564 volte più alto di quelli con stress basso potete immaginare che i ragazzi che entrano all'università non abbiano molta dimestichezza quelli appena entrati con la gestione dello stress universitario e quindi hanno un rischio maggiore di quelli più grandi quindi 18 anni un rischio maggiore di quelli 22 anni qui uno studioso che ho conosciuto tramite mail una persona molto disponibile che mi ha illuminato su che cosa succede a livello centrale quando si forma una carie e questi sono studi che fatti da lui e da persone che ci sono anche degli italiani in cui si vede che praticamente l'incremento di zucchero nel sangue e lo stress anche psicosociale che cosa fa aumenta il metabolismo dei mitocondri dell'ipotalamo e si producono i famosi radicali liberi questa produzione di radicali liberi blocca l'emissione del fattore di rilascio dell'ipotalamo per cui si downregola la produzione dell'ormone parotideo e si blocca il flusso del frutto dentinale predisponendo il dente alla carie ora se noi abbiamo una qualcosa che interessa i radicali liberi a questo punto gli antiossidanti devono essere in grado di ripristinare il flusso del fluido dentinale e questo è vero e immaginate la rivoluzione che è quella di andare a curare le carie con gli antiossidanti riparliamo comunque questo è un altro lavoro interessante in cui si vede che le metalloproteinasi di matrice che sono prodotte dall'ospite dal proprietario della bocca quindi dopo lo stimolo irritante sono loro e quindi non gli acidi prodotti dai batteri che vanno a distruggere il collagene della dentina quindi è l'ospite che si autodistrugge dopo lo stimolo il dente e non sono invece gli acidi prodotti dai batteri come abbiamo sempre pensato un ultimo lavoro in cui si vede che la saliva noi sappiamo che esercita tramite l'IGA una protezione immunologica quando si attiva l'asse ipotalamo e ipofisi sul rene aumentano i livelli di cortisolo salivare per cui si hanno degli effetti immunosoppressivi e questo favorisce la crescita e la colonizzazione dei batteri inoltre l'aumento delle catecolamine riduce il flusso salivare noi sappiamo tutti che quando si è sotto stress ci si asciuga la bocca infatti io non sono sotto stress ma ne profitto per bere un bicchiere d'acqua e quindi la mancanza di saliva fa sì che i batteri possano in qualche caso avere la meglio o particolari colonia di batteri allora questo stesso un capolavoro questo è uno studio che mi ha segnalato il professor bottaccioli e che ringrazio uno studio olandese che ci ricorda che noi abbiamo sempre pensato che l'ambiente uterino fosse sterile e si pensava che il bambino prendesse i primi microrganismi nel passaggio nel canale vaginale e invece non è così tanti lavori ci dimostrano che il microbiota si forma quando il bambino è ancora all'interno dell'amnios e indovinate da dove viene questo microbiota dalla cavità orale della madre quindi questa è una rivoluzione perché se ragioniamo un attimo che cosa vorrebbe dire che in una situazione fisiologica anche se speciale come quella della gravidanza i batteri hanno il pass del sistema immunitario per passare da una parte all'altra senza essere in qualche modo eliminati controllati questo chiaramente se noi pensiamo che per il 90 per cento come cellule da batteri è ovvio ma questa questione diciamo che mette in discussione tante tante credenze perché vuol dire che il sistema immunitario in qualche modo ha un ruolo anche nella regolazione dell'attività dei batteri anche quando questi devono svolgere un'azione fisiologica come creare la flora microbica di un bambino che deve nascere quindi a questo punto ho pensato che potessimo qui mi riferisco all'articolo di cui hai accennato questo praticamente è lo schema tramite i lavori che sono riuscito a mettere appunto come un mosaico questo è il nuovo schema della carie secondo me e cioè abbiamo l'ipotalamo col fattore di rilascio la parotide che libera l'ormone parotideo e se si produce il flusso del flusso dentinale la carie non si forma e però abbiamo visto lo stress il glucosio nel sangue interferiscono sull'ipotalamo producono radicali liberi si blocca il fattore di rilascio si blocca l'ormone parotideo e il dente sicaria abbiamo anche visto che però lo stress tramite l'infiammazione le metalloproteinasi è in grado di influenzare il processo carioso anche tramite l'asso ipotalamo ipofisi sul rene collecate con la mine il cortisolo in un caso si riduce il flusso salivare questo aumenta potenzialmente le capacità del microbiota di agire e col cortisolo si bloccano le iga e anche questo può dare il via libera al microbiota gli antiossidanti sono in grado a questo punto di interferire sul processo e mi sono detto ma è vera questa cosa allora andiamo a vedere con un semplice antiossidante quale può essere il tè o il tè verde che cosa succede qua ci sono tanti lavori che ci fanno vedere che il tè o il tè verde riesce a bloccare la carie quanto il fluoro è una cosa eccezionale che nessuno considera e che ci conferma però che la teoria della carie ipotizzata ha un fondamento di verità perché se no un antiossidante che agisce sui radicali liberi e quindi sull'ipotalamo non dovrebbe interferire in un processo locale come quello che era stato descritto da miller nel 1882 e oggi si sta studiando anche il ruolo antiossidante della vitamina k2 nel cervello diciamo termino la parte della carie c'è qualche domanda qualcosa di secondo te da poco chiara o da approfondire o va tutto bene no no va tutto benissimo io trovo veramente interessante tutto questo lavoro e non credo solo io perché stanno arrivando varie domande quindi poi sono contento ecco ai sui ai suscitato sicuramente molto interesse però non toccando le domande che che stanno arrivando tu ci hai parlato di carie con una visione veramente rivoluzionaria ma anche la malattia paradontale presenta così stretti legami con lo stress sì sì la risposta è un sì ma parliamo della malattia paradontale che vediamo che già nel 47 si parlava di fattori psicosomatici nelle ziologia della malattia paradontale nel 52 altra pubblicazione fattori emozionali nella malattia paradontale e ci chiediamo oggi dopo 80 anni dopo 80 anni ci sono solo conferme in questa radio del 2018 si dice che lo stress psicosociale gioca un ruolo importante nella malattia paradontale attraverso meccanismi comportamentali e biologici e c'è una chiara e plausibile indicazione per un forte ruolo dello stress nella manifestazione della malattia paradontale vediamo che questo è un altro lavoro in che modo lo stress va a influenzare la malattia paradontale in due modi prima di tutto induce effetti immunosoppressivi quindi attiva l'asse dello stress il cortisolo il cortisolo blocca la produzione di iga e igi e quindi meno difesa nei confronti dei batteri lo stress aumenta anche il braccio attiva anche il braccio nervoso quindi con adrenalina e noradrenalina attivate le prostagrandine le proteasi e si aumenta la distruzione del parodonto la seconda strada è che lo stress quando una persona è sotto stress noi sappiamo che ci sono dei cambiamenti comportamentali si fuma scarsa igiene orale riduzione dei controlli odontoiatrici eccessi alimentari con diete ricche di grassi che portano aumento di cortisolo tutti i fattori che vanno a influenzare la malattia paradontale è un particolare tipo di di gengivite che tutti noi odontoiatri abbiamo sempre conosciuto che è e si sa da sempre che è collegata allo stress e si chiama gengivite ulceronecrotica particolare perché come vedete nella foto torno indietro un attimo la sua caratteristica è quella di mozzare la papilla che si forma normalmente tra i denti la necrotizza e quindi scompare e si forma un buco uno spazio vuoto scuro tra i denti ora la cosa interessante che noi abbiamo sempre saputo oltre che era legata allo stress e che colpisce due categorie precise di persone studenti nel periodo di esami e giovani durante il servizio militare questo è interessante perché sappiamo che c'è lo stress stress sappiamo che il responsabile è si dice che sia un batterio che la prevotella intermedia ma come mai questo batterio riconosce gli studenti nel periodo di esami e giovani durante il servizio militare anche qui diciamo che l'ipotesi è che in qualche modo si selezionino dei ceppi particolari di batteri che devono fare in quel caso il loro lavoro in determinate situazioni di stress quindi attualmente la mia ricerca è l'anticipo io sto cercando di capire se c'è qualcosa di più oltre la parola stress ma se c'è uno specifico tipo di stress collegato alla carie e uno specifico tipo di stress collegato alla malattia parodontale perché ci sono altri elementi di cui adesso parliamo che fanno capire che non sono tutte le persone sotto stress che fanno la malattia parodontale o la carie ma certe tipologie di persone questi sono altri due studi cross sezionali in cui si confermano le associazioni tra parodontite stress il cortisolo noi sappiamo che lo stress marker per eccellenza e qua c'è un lavoro del 2005 in cui si vede che c'è un forte collegamento tra depressione stress cortisolo salivare e malattia parodontale indipendentemente dal livello di generale e qua smontiamo quindi la questione che le persone che hanno la malattia parodontale sono persone che non si spazzano nei denti quest'altro lavoro del 2006 lo stesso forti conferme che collegano la gravità delle parodontiti ai livelli alti di cortisolo e anche quest'altro lavoro del 2009 conferma ora questo è un lavoro interessante fatto sulla popolazione svedese dai 50 agli 80 anni in cui hanno visto che praticamente gli eventi traumatici della vita possono incrementare il rischio di fare malattia parodontale però se a queste persone noi insegniamo delle strategie di coping praticamente si riesce a influenzare l'andamento della malattia parodontale con un qualcosa di esterno alla bocca che non è un farmaco ma agisce sulla psiche sulla mente della parte della persona e cominciamo a divertirci sempre di più perché ci infiliamo tutte le pratiche che sono state considerate valide anche scientificamente per abbattere lo stress come lo yoga chi ha mai pensato che ci fosse un collegamento tra yoga e problemi della bocca e malattia parodontale e guardate questo lavoro del 2016 sono stati presi 70 soggetti divisi in tre gruppi stressati non stressati e praticanti yoga chi praticava yoga aveva migliori parametri di cortisolo migliore risposta ai test psicologici sullo stress e migliore salute parodontale ma ancora meglio quest'altro lavoro del 2017 80 persone divise in due gruppi nel primo si è effettuata una terapia normale cioè persone che avevano la malattia parodontale ti faccio la terapia normale con curettaggi scaling e così via nell'altro ti faccio la classica terapia ma in più ti insegno le pratiche di yoga e la differenza è stata significativa tra i due gruppi in tutti i parametri che sono quelli che normalmente noi consideriamo validi per capire quanto è grave una malattia parodontale ad esempio l'indice di placca il sanguinamento della gengiva al sondaggio la profondità del sondaggio e la perdita di attacco clinico questo è uno studio sulle citochine che ci fa vedere che lo stress agisce alterando la produzione di citochine proinfiammatorie le quali causano un ritardo nella guarigione delle ferite e questo del ritardo della guarigione delle ferite lo ritroviamo in quest'altro studio che è molto famoso tra i ricercatori in cui si chiede a dei poveri studenti di odontoiatria di pratica di auto praticarsi una ferita sul palato in due momenti diversi uno alla fine delle vacanze e l'altro prima di uno dei maggiori esami quindi si supponeva che fossero sotto stress e si valutava dolore velocità di guarigione e così via quindi il risultato qual è stato nel periodo di stress il decorso è stato più lungo e doloroso sempre stress accademico si è visto che praticamente ci sono gravi peggioramenti della salute gengivale negli studenti sotto esame però qualcuno ha contestato questo dicendo sì però può essere che gli studenti non spazzano nei denti quando sono impegnati a studiare in prossimità dell'esame e allora si è deciso di fare un altro studio la tecnica cosiddetta della split mouth design cioè si suddivide la bocca in quadranti e in quadranti incrociati si fanno cose diverse quindi gli studenti dovevano spazzolare solamente due quadranti su quattro e neanche sullo stesso lato sul lato opposto uno superiore e uno inferiore i risultati sono stati interessanti perché si è visto che gli studenti sotto esame avevano tutti una depressione del sistema immunitario su entrambi i lati rispetto al gruppo di controllo e quindi si è visto che praticamente questa soppressione in situazioni di stress aumenta in caso di scarsa igiene orale ma è presente anche nelle zone ben spazzolate quindi indipendente comunque dallo spazzolamento o poco dipendente guardate questo studio in cui si vede due studi in cui si vede che chi fa la malattia periodontale soffre di stress particolari che qualcuno ha provato a individuare genco nel 94 ha trovato collegamenti tra stress finanziario e malattia periodontale e altri nel 2015 ha trovato collegamenti tra stress occupazionale e malattia periodontale comunque entrambe le cose collegate a la percezione di un di stabilità economica non so come possiamo definirla interessante quindi questa cosa questo è uno studio italiano in cui si è visto che sono stati presi 28 pazienti divisi tra un gruppo con stress alto e un altro con stress basso ed è stata fatta entrambi una terapia parodontale non chirurgica a questo punto si è visto che quelli con stress elevato rispondono in maniera meno efficace alla terapia quindi questa è una cosa importantissima che ogni professionista dovrebbe conoscere lo stato di stress perché va a influenzare poi le tu poi fai la stessa terapia fatta bene e su certe persone il risultato non è quello ottimale perché sono persone sotto stress e quindi c'è un qualche cosa che rema contro la guarigione in quel momento quindi su questi pazienti dare dei consigli insegnarli dargli dei riferimenti sulle gestioni dello stress è un qualcosa che secondo me deve diventare oltre a fare una piccola diagnosi della presenza o meno di stress deve diventare l'anno dovrebbe diventare la normalità nella nostra professione per l'importanza che a questa faccenda parliamo infine dell'epigenetica perché l'epigenetica per l'apnei è uno degli argomenti più basilari perché va a spiegare tante cose che quando si pensava che le informazioni fossero nei geni e non ci fosse niente al di sopra dei geni che potesse modulare queste queste comunicazioni non si riusciva a capire il funzionamento di determinate malattie mentre qua le pg la malattia parodontale ad esempio ha una grossissima componente epigenetica epigenetica che ad esempio qua vediamo che va anche a influenzare l'attività delle citochine uno studio interessante su coppie di gemelle inglesi in cui si vede che lo stress ha impatto sull'epigenetica per quanto riguarda la malattia parodontale servono ulteriori accertamenti ulteriori studi però gli indizi ci sono che è questo il collegamento che ci mancava per capire il funzionamento della malattia parodontale qualche domanda su questa faccenda ma senti è interessantissimo anche questo collegamento tra stress e malattia parodontale veramente un bellissimo lavoro quello che hai hai presentato eh poi sono argomenti che a me piacciono a mi appassionano in modo particolare quindi eh ti ascolto sempre con grandissimo piacere infatti ero molto grazie contento di poterti avere ospite eh oggi senti io io allora considera questo il tempo più o meno a nostra disposizione è terminato io avrei una domanda da farti ma non è solo mia perché è una domanda che è arrivata anche da Sandra e da Vincenzo eh ti farei questa domanda e e poi così considera ecco questa domanda sintetizza un po' anche quello che ci chiedono appunto Sandra e e Vincenzo ho letto male il nome Vincenzo da un punto di vista diagnostico e terapeutico però a questo punto nella cura delle carie della malattia parodontale alla luce delle innovative informazioni integrate che ci hai presentato che cosa cambia perché ok tutto questo benissimo bellissimo però quello che ti viene anche chiesto è bene e poi allora adesso da un punto di vista diagnostico che cosa si fa e da un punto di vista terapeutico? La domanda è corretta eh allora innanzitutto dobbiamo sapere che il dentista è il primo che deve cambiare perché se il dentista non cambia approccio le cose non cambiano quindi che cosa deve cambiare nella nella modalità di visitare di guardare il paziente del dentista il dentista si deve ricordare che per queste persone che hanno carie a malattia parodontale hanno probabilmente passato un periodo di stress recente noi immaginiamo che nella nostra macchina abbiamo questo cruscotto e a un certo punto si accende una spia lampeggiante a forma di dente ok noi cosa abbiamo fatto sino oggi siamo stati bravissimi a curare il sintomo e quindi lavoriamo sulla spia facendo tante cose bellissime sulla spia ma in questo caso la spia ci sta dicendo che il problema potrebbe essere molto più alto e quindi legato anche allo stress quindi una cosa più ampia che riguarda il paziente nella sua persona con la P maiuscola quindi non la non la sua bocca riguarda la persona quindi l'approccio deve per forza cambiare cioè dobbiamo alzare un attimino lo sguardo e vedere il paziente nel suo insieme e fargli delle domande la più banale è in un questionario o a voce con la risposta da appuntare in cartella è stato sottoposto di recente a periodi di stress intenso in uno o più di questi ambiti famiglia lavoro relazione il paziente risponde sì abbiamo la possibilità di raccogliere dati interessanti se risponde sì e ha segni di malattia e carie di malattia parodontale carie allora possiamo informarlo sulle ricerche sullo stress e sulle metodiche di coping e antistress e quindi possiamo consigliargli di intraprenderne una nel nostro stesso interesse perché qua stiamo facendo l'interesse del paziente e il nostro interesse come professionisti per mandare a buon fine le cure che facciamo tutti noi vorremmo che le cure fossero fossero fatte una sola volta e non dovessimo mai ritornare sulle stesse problematiche quali sono secondo la scienza comunque già conosciute metodiche che funzionano per quanto riguarda la gestione dello stress la meditazione il mindfulness abbiamo citato lo yoga il tai chi il qigong le tecniche di rilassamento e di coping per esprimere le proprie emozioni non tenerle bloccate consapevolizzarle il potere della preghiera della spiritualità è molto studiato ed è interessante ma ha un effetto sulla malattia è un effetto antistress l'attività fisica ci sono tanti lavori che ci parlano di questo la terapia psicologica cognitivo comportamentale massaggi ultimazione antistress e anche l'agopuntura e ultimamente una corsista mi ha segnalato questo lavoro in cui anche il canto il canto fatto in gruppo ha degli effetti nell'abbassamento del livello di cortisolo quindi concludendo questa dovrebbe essere con questo approccio nei la medicina personalizzata alla quale noi dobbiamo mirare però il dentista per far questo deve cambiare purtroppo lo so che cambiare vuol dire uscire dalla zona di comfort e spesso fa piacere rimanere sul proprio tracciato ma in questo caso dobbiamo non fare una cosa difficilissima alzare la testa guardare negli occhi quella persona che ha scelto e ascoltarla oggi c'è la cosiddetta medicina narrativa che è una branca della medicina che si dovrebbe occupare di ascoltare i pazienti a me fa un po sorridere perché questa dovrebbe essere una priorità del medico almeno lo era del medico di un tempo che andava dal paziente e gli faceva raccontare come va come anche cose apparentemente banali che però davano un'idea completa della situazione oggi invece si tende a curare senza più parlare guardare paziente si guarda il pezzo sul quale lavorare e finisce lì quindi tutto il vissuto che sta dietro una persona può essere importante quindi il consiglio per il terapeuta è quello di valutare con estrema attenzione questa questa parte della del nostro lavoro io avrei insomma concluso più o meno no no grazie grazie molto interessante guarda abbiamo a disposizione ancora un tredici minuti più o meno ecco sono arrivate varie domande io te le pareti te le sporrei siccome sono diverse se hai modo di rispondere in modo più o meno sintetico vediamo se riusciamo ad accontentare tutti domanda che chiedeva proprio sono molto interessati a questo tuo approccio e vogliono sapere come ti comporti da un punto di vista clinico cioè chiedono se ad esempio questo lo chiede sandra fai compilare dei questionari psicometrici oppure utilizzi l'hrv o la misurazione della via con un quindi con un bien pretenziometro con un macchinario che misura la variabilità della frequenza cardiaca e se nel tuo staff hai anche altre figure quindi all'interno del tuo studio se ci sono psicoterapeuti esperti di tecniche anti stress esperti di alimentazione eccetera allora in un mio studio ideale sì in questo momento no quindi io faccio solo una cosa molto semplice ma tutto quello che ha detto sandra giusto è corretto diciamo che io miro ad arrivare a questi livelli in questo momento mi sento già un possiamo dire una mosca bianca a chiedere ai miei pazienti e a parlare con i colleghi di queste faccende però io sono speranzoso quindi mi piacerebbe avere uno psicologo nello staff del mio studio mi piace mi piacerebbe poter utilizzare e devo dire la verità ho un amico psicologo col quale stiamo portando avanti uno studio e vediamo se riusciremo a pubblicarlo con dei test selezionati da lui quindi un campo in cui io essendo odontoiatra entro ma sino a un certo punto perché mi lascio guidare dal collega psicologo però ecco stiamo cominciando a fare le cose in maniera più approfondita e contiamo tra breve di portare alla pubblicazione un lavoro importante su questo argomento bene bene molto interessante anche questo senti sia marcella che che luigia fanno due domande sindi nei bambini presentano molte carie a fronte di quanto ha spiegato il dottore da un punto di vista clinico come si comporta in vita a fare altre terapie che consigli dai genitori come come ti muovi ecco in definitiva allora valuto l'apertura mentale del genitore innanzitutto cioè se un genitore col quale possiamo parlare di qualcosa che è un po diverso dall'approccio tradizionale allora mi incomincio incomincio a far domande su come sta il bambino in generale quindi se negli ambiti che sono famiglia quindi rapporto con i genitori rapporto con fratelli però mettiamoci nei panni di un bambino che ha dei denti di latte in genere le problematiche importanti sono rapporto coi genitori se i genitori magari sono molto impegnati o sono genitori che spesso stanno fuori casa ci sono altre persone che rischia seguono i bambini genitori che magari il bambino può percepire come particolarmente severi e questi sono sono fattori che possono mettere un po sotto pressione il bambino e andare a incidere sulla salute dentale ma anche ciò che avviene a livello scolastico spesso i genitori mi raccontano che ci sono problemi con un particolare compagno con una particolare insegnante e sono tutte situazioni torniamo indietro la questione fight and flight in cui la fuga non si può utilizzare e neanche l'attacco perché non si può andare via da scuola ogni tanto diciamo in situazioni estreme i genitori lo fanno anche non non si può rispondere più di tanto ai gli insegnanti perché le regole e l'educazione ci dicono anche questo quindi il bambino si trova intrappolato in una situazione in cui è sotto stress e non può utilizzare nessuna delle due soluzioni che il nostro file che abbiamo installato da tanti 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 anni ci dà come buone per risolvere lo stress cose che potevano andar bene tanto tempo fa c'era un leone che ci veniva incontro io in un attimo dovevo valutare questo leone è alla mia portata e allora lo attacco oppure questo leone non è alla mia portata allora scappo ma la questione si risolveva lì oggi in questi ambiti famiglia lavoro scuola troviamo intrappolati in situazioni in cui la soluzione non è rapida e quindi lo stress tende a cronicizzarsi e questo nei bambini porta a problematiche di carie o se devo dire la sfumatura che ho trovato sulla quale chiaramente è solo un'ipotesi di lavoro però riguarda la questione dell'aggressività cioè è come se il bambino in qualche modo bloccasse la sua aggressività e quindi se la dovesse ricacciare dentro e questo secondo me può avere una certa influenza sull'origine stress o genera delle carie grazie anche per questa risposta roberto senti arrivata tra le varie domande una una interessante molto attuale perché insomma sono usciti degli articoli a riguardo negli ultimi anni appunto una serie di studi stanno dimostrando delle correlazioni tra malattie parodontali e problemi cognitivi fino all'alzheimer significa che se curiamo lo stress e quindi la bocca possiamo in qualche modo prevenire questi problemi una risposta difficile da dare però insomma guarda la domanda è molto pertinente allora questi studi cosa dicono che il collegamento avviene quando si perdono dei denti e non vengono rimessi quindi è il deficit masticatorio che si è visto va ad influenzare l'attività cerebrale e può in qualche modo essere un'ipotesi di lavoro predisponente per l'alzheimer ci sono degli studi che io proprio nel lavoro non sono pubblicati ma erano stati citati nella tesi del master play in cui si vede che l'attività masticatoria riesce a dare degli stimoli al cervello in maniera incrociata e cioè masticare sul lato destro va a stimolare l'emisfero sinistro masticare sul lato sinistro va a stimolare l'emisfero destro quindi anche solo una problematica parziale di masticazione può in qualche modo disturbare l'attività cerebrale voi pensate che sono delle persone che per abitudine masticano solo da un lato ok hanno un lato preferenziale se questo è vero e quindi dobbiamo cioè se la questione dello stimolo degli emisferi è vera e ci sono dei lavori che ci dicono che così praticamente stiamo eliminando gli stimoli su tutto un emisfero cerebrale e questo alla lunga come tutte le situazioni di non attività potrebbe avere delle conseguenze quindi gli studi che collegavano la salute della bocca alla questione dell'alzheimer parlavano proprio di questo persone che avevano perso i denti che avevano la dentiera che avevano una masticazione non più ottimale con dentiere mobili o masticavano addirittura senza denti avevano alla fine questo tipo un incidenza maggiore di questo tipo di problematiche questo deve fare riflettere tutti noi anche per quanto riguarda le protesi sociali ad esempio uno stato efficiente sapendo questo dovrebbe poter garantire la sua popolazione un livello minimo di diciamo sufficienza masticatoria è interessantissimo interessantissimo senti altra domanda visto il legame stress malattia parodontale lo stress può essere causa di problematiche come l'instabilità degli impianti che vengono appunto messi dai dentisti allora su questo io non ho una risposta perché non ho in questo momento degli studi di riferimento posso fare un'ipotesi che in qualche caso allora quando noi abbiamo problematiche sugli impianti noi abbiamo delle statistiche che ci dicono quanto gli impianti hanno successo e diciamo che oggi il successo è del 99 virgola qualcosa per cento quindi molto alto la percentuale di insuccessi non è distribuita in una fascia di popolazione ampia sono poche persone che perdono molti impianti ok quindi non sono tutti che su otto impianti ne perdono uno no ci sono tanti che vanno bene e poi ne trovi uno che ne ha perso quattro o cinque quindi è tutto concentrato sulla stessa persona quindi la questione stress non mi azzardo per adesso a pronunciarmi ma la questione terreno è sicuramente determinante ok dunque se la carie e la malattia paradontali sono così tanto influenzate dallo stress e quindi dal cortisolo la melatonina può aiutare a contrastare queste malattie potrebbe essere sì io in questo momento non ho né personalmente non degli studi di riferimento però lo prendo come uno spunto questo può essere un buon campo di ricerca però ammetto di non avere in questo momento elementi per rispondere a questa domanda senti giuseppe ti fa questa domanda molto interessante ringrazio il dottore per l'esposizione oggi sappiamo bene l'importanza dei batteri per mantenere in salute il nostro organismo in generale visto l'asse intestino cervello la continuità anatomica intestino bocca via una relazione tra i batteri intestinali e quello della bocca sì sì diciamo che si influenzano vicendevolmente tant'è che curare in qualche modo la flora microbica orale poi ha delle ripercussioni ripercussioni importanti sullo stato di salute in generale quindi è anche questo uno dei campi di studio che secondo me andranno proprio a rivoluzionare rivoluzionare l'approccio odontoiatrico di questi prossimi anni io ci conto davvero allora guarda stanno continuando ad arrivare domande te ne faccio un'altra così al volo questo punto i pazienti diabetici possono avere particolari problemi in amico odontoiatrico sì pazienti diabetici sono considerati un po più suscettibili alle infezioni e quindi bisogna stare un po più attenti nelle precauzioni se si dovessero fare ad esempio interventi chirurgici o una malattia parodontale nel diabetico può può creare conseguenze più gravi rispetto a una persona non diabetica quindi comunque il diabetico non diciamo non ha una controindicazione per noi alle cure odontoiatriche ma neanche all'implantologia ad esempio un tempo si tendeva a selezionare diabetici e non praticare gli impianti nelle loro bocche oggi non è più così però certamente col diabetico bisogna stare un po attenti ad esempio io proprio stamattina avevo una paziente diabetica che aveva oggi con la tecnologia si fa di tutto sul suo cellulare il livello della del glucosio nel sangue e quindi abbiamo visto che era stato influenzato dall'anestesia e dalla lunghezza della seduta e quindi ha dovuto prendersi degli zuccheri da un certo punto avere questo tipo di monitoraggio certamente importantissimo perché ci permette in tempo reale di vedere che cosa sta succedendo quindi oggi non ci sono controindicazioni ma solamente un pochino più di attenzione nei riguardi del paziente diabetico ok ulteriore domanda da parte di lino esiste una relazione tra stress e dolore dei denti la percezione del dolore sappiamo quanto sia soggettivo quindi sì direi di sì diciamo che in uno stato di 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 allerta perché ricordiamoci che essere sotto stress vuol dire aumentare a mille tutte le percezioni che riguardano l'ambiente esterno diciamo che prima perché lo stress dovrebbe portare lo stress per natura dovrebbe portare a un attacco o fuga quindi in un certo senso c'è una liberazione di endorfine che durante la collutazione ad esempio ci sono persone che non si sono rese conto di essere state ferite o di aver ricevuto una un proiettile se ne sono accorte solamente dopo perché era lo stress era talmente livello era talmente alto che in qualche modo il nostro corpo ha eliminato in quel momento la percezione del dolore quindi in questo senso no ma nella situazione pre cioè in cui uno si aspetta l'evento ea tutti i sensi a mille e c'è la cosiddetta attenzione della sentinella in cui io percepisco anche il la mosca che normalmente non sento e se un amico mi da mi tocca sulla spalla salto in aria in quella situazione ci può essere una maggiore percezione del dolore io posso dire che è su questo noi dentisti un po scherziamo ci sono dei pazienti che vengono da noi che sono un po paurosi fobici e quando noi iniziamo a lavorare prima ancora che non li tocchiamo e cominciano a dire ai 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 cioè si lamentano niente signora non ho ancora fatto niente però stanno già anticipando sentono già dolore quando ancora non abbiamo fatto niente o basta toccare un attimino il dente e saltano cioè l'hai solamente appoggiato un dito quindi è tutto a mille per quello dico è molto soggettivo alla percezione del dolore e ogni caso è a sé senti roberto siamo a termine però io provo se riesce a rispondere in modo ultra rapido nei bambini nei ragazzi lo stress può incidere anche sulla crescita stessa dei denti esempio farli crescere storti allora qui c'è un lavoro interessante che mi sembra sia stato fatto su sui conigli in cui si è visto che sottoponendo la mamma in gravidanza la mamma coniglio in gravidanza ha dei rumori fortissimi e stressanti si riusciva a far crescere dei denti storti nei piccoli coniglietti che nascevano quindi stimoli stressogeni secondo me hanno questa capacità ancora non sappiamo bene in che modo agisca lo stress da questo punto di vista però anche qua ci sono degli indizi che possono portare su questa strada quindi anche questa domanda molto pertinente molto interessante grazie sentite ne faccio l'ultima velocissima è arrivata adesso o perlomeno la sto leggendo adesso perché ne erano arrivate diverse da parte di Enzo uno dei nostri assidi ascoltatori anche se il comportamento igienico della persona è corretto quanto incide l'inevitabile avanzamento dell'età invecchiamento sulle carie sulla malattia pari risultale direi zero direi zero perché o perlomeno diciamo che ci sono situazioni fisiologiche in cui il dente si consuma per per l'usura per l'utilizzo quello sì ma questo non riguarda la carie ci sono dei tessuti che avendo lavorato per 70 anni possono un po non essere esattamente come quelli del del ragazzo ma io ho persone che hanno superato anche i 90 90 anni come pazienti con dentature perfette e viceversa ragazzi che già tra i 20 e 30 anni incominciano avere problemi importanti che minano la loro salute della bocca e quindi pensando di dover portare questa dentatura a un'età avanzata bisogna impegnarsi da parte sia del terapeuta che del proprietario della bocca roberto grazie mille grazie veramente tanto direi che abbiamo sfruttato al massimo il tempo che che avevamo a disposizione è stato veramente il tuo intervento ricco di spunti e di riflessioni sia chiaramente dal punto di vista paradigmatico che scientifico e siamo proprio contenti di averti avuto come ospite di aver iniziato a parlare di odontoiatria proprio con te grazie a questo punto speriamo di poterti avere in futuro ancora ospite sulla nostra piattaforma di poter ospitare anche proprio un tuo corso sulla piattaforma di accademia mibes eh prima di salutare tutti ricordo che questo webinar rimarrà come sempre a disposizione gratuitamente sui nostri canali quindi sul sito internet di accademia mibes sulla pagina facebook e sul ehm e di linkedin di accademia mibes e sul nostro canale youtube vi invitiamo anche ad iscrivervi al nostro canale youtube a mettere il like sui nostri social noi ci rivediamo quindi tra due settimane come sempre di mercoledì all'ora diciotto quindi il diciannove di aprile il titolo del prossimo webinar è agopuntura tra passato e futuro il nostro graditissimo ospite sarà una delle figure più importanti e prestigiose del panorama non solo italiano ma proprio internazionale nel campo dell'agopuntura abbiamo infatti come ospite il dottor franco cracolici che tra i vari titoli vedi eh e eh elencheremo al prossimo incontro attualmente il vicepresidente della World Federation of Acopunture Societies quindi buona serata a tutti da parte di Accademia Mibes e dal sottoscritto Nicola Barsotti ciao grazie ciao Roberto